ciao a tutti ragazzi sono di nuovo io Simo Bricks benvenuti in questo video oggi siamo qui per farvi vedere la mia stazione natalizia visto che c'è oltre una natalizia cosa che non mancare una stazione ok benissimo iniziamo subito a vedere i dettagli zoomando fantasticamente allora iniziamo subito a vedere qua abbiamo un cestino della spazzatura sempre utile un estintore una sedia poi abbiamo un piccolo tavolino con un bicchiere adesso lo alzo un po perché è all'ombra poi abbiamo un obliteratrice con i biglietti una zona verde un albero una lampada e un una casara della posta questa la luce rossa per il treno c'è rossa per il treno dal retro non dovrebbe essere visto e niente questa è una stazione è una stazione piccola di città ma è carino qua ci passa il tracciato e niente è questa la stazioncina un albero di natale di natale insomma non ha le decorazioni ma è sempre un albero la versione base della di questa stazione che avevo creato era senza zona verde era proprio un buco di stazione poi l'ho abbellita un po ci ha messo una tettoia insomma la tettoia tra l'altro quei due pezzi bianchi trasparenti sono vecchissimi vabbè da sotto non dovrebbe essere visto e niente ragazzi questo era un video veloce vi ringrazio per la visione ciao e alla prossima buone feste da simu briggs ciao ciao ciao